Allora pronti fiorellini, io sono qui Narela e benvenuti in un mio nuovo video. Oggi siamo qui ad aprire un nuovo pacchettone di Shane. Questo è il continuo di delle cose che mi sono arrivate l'altra volta. Allora, spero che sia tutto, perché... Perché io ho fatto due ordini. Quindi, uno me l'hanno diviso e mi hanno mandato tre cacate dell'altra volta. E l'altro ancora mi deve arrivare, che è un po' più piccolo. È un po' più piccolo. E mi sa che è questo quello più piccolo. Sì, è questo. Sì. Sto aspettando. Sta cosa che non mi arriva ancora. Da tanto tempo. E che palle, la voglio, la voglio, la voglio. Ah, comunque, fiorellini, vi voglio fare vedere il mio alberello, perché tanto dobbiamo andare di là. Adesso vi faccio vedere il mio alberello. Vedi com'è. Alberello. Vedete, è tutto pomposo, è tutto pompon, pompon, pompon. Si è incastrata la ringlai. È tutto un pompon. Bene. Allora, questa è la prima cosa, però è leggermente grande, perché ho preso una M. E anche il toppettino è enorme. Questa è una felpa, che alla fine è anche carina. Adesso mi tengo i pantaloni, perché mi tengo questi pantaloni, però sono veramente grandi. Ho preso una M. Sono giganti. Non so se forse andava meglio una taglia in meno, perché sono un po' grandi. Cioè, vabbè, comunque, è molto morbida questa magliettina, cioè, questa felpa, quel che è. E dai, è carina, cioè, non lo so, in realtà. Magari non ci sta bene con questi, però sembra carina ed è morbida. Opla. Pucci, 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 pucci. Dai, è carina. Questa è una, anche questa è una M. Non so perché non ho preso una L, un XL, un XXXL, perché non riesco a vedermele le felpe con questo pantalone qui, cioè, questo pantalone del pigiama, solo che mi scoccia parecchio cambiarmelo, mi scoccia proprio sai, e mi sa che lo cambia, aspettate. Ok, l'ho cambiato, allora, ci sta. Non mi piace che sia molto corta, io la vorrei più così, così. Però dai, è carina. Cioè, è un po' così, un po', un po' bruttina, un po', invece di essere, no lo so, fiorellini, no lo so. Questa sì che è corta fiorellini, questa è orribile. Cioè, questa mi, sembrano quelle, quei magliongin degli anni tutti così e poi, no, non mi piace, questo non mi piace. Allora, penso di aver capito qual è il problema delle altre, è perché ho preso una M, invece di prendere una L, un XXXXXL, una Super XL, quindi è per questo che mi fanno abbastanza schifo, che sono corte, perché è una M e mi fanno schifo le fiegi corti, no. Questa invece è la taglia unica ed è arrivata anche di una marca strana, anzi, c'ha pure l'etichetta, c'ha due etichette, non lo so, vabbè, questa non mi piace per niente, è troppo corta, mi riprovo la nera, non lo so, perché mi sa che L era meglio, che mi sembra un pochino cortina, mi sarebbe piaciuta un po' più così, non lo so, io con il mio fisico sono un po' particolare sulle felpe, le felpe non mi stanno molto bene, cioè ci sono alcuni tipi che mi stanno bene, questa non lo so, questa era in velluto ed era tutta tinca, che io ricordi, se è quel pacco lì, questa non è tinca, anzi, però quello era proprio velluto ed era tinca tinca, proviamo. Allora è così, ma era diverso. E niente, fiorellini, un altro video di cui non eri raggiunto a termine, ci vediamo in un prossimo video, sperando che arrivino le cose che sto aspettando da tantissimo tempo, le cose, la cosa che... spero che questo video vi sia piaciuto, a me no, non sono convinta di nulla, di tutto ciò, quindi speriamo nel prossimo, ciao ciao fiorellini! Sì, 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 sì.